Una visita particolare, quella che si è svolta sabato 17 marzo a Palazzo dal Pozzo della Cisterna. Oltre a scoprire le sale auliche della sede storica della città metropolitana di Torino, i visitatori hanno potuto rivivere le memorie e i sapori della vita della Corte Sabauda. Il mio nome è nato dentro la storia. La visita, realizzata con la collaborazione della Strada Reale dei Vini Torinesi, è stata animata dagli attori dell'Associazione Teatro e Società e si è conclusa con una degustazione di vini del Pinerolese curata da Mauro Camusso dell'azienda agricola Lautin di Barge. Dobbiamo dire che la nostra c'è una zona da una grandissima transizione di coltivazione viticola, poi dopo ha preso il sopravento e la frutta, quindi sono diminuiti gli ettari evitati, non si faceva qualità ma solo quantità. Adesso invece siamo alcune realtà, ci crediamo in queste caratteristiche un po' particolari dei nostri vitigni perché siamo ridosso delle montagne e quindi l'escursione termica è molto importante particolarmente sui bianchi. Si è trattato di una sorta di anteprima di brindisi a corte, un'iniziativa promossa dalla città metropolitana di Torino e dall'ATL Turismo Torino e Provincia nell'ambito del progetto europeo della strada dei vigneti alpini. Un viaggio alla scoperta dei fasti delle residenze reali attraverso visite guidate teatrali e una ricostruzione storica con degustazioni di vini, prodotti gastronomici, antiche ricette delle residenze sabaude, itinerari fra vigneti e ambienti aulici per scoprire aspetti della vita domestica dei Savoia. Noi abbiamo visitato ogni luogo presente nel circuito di brindisi a corte, abbiamo cercato di sentirne un po' lo spirito di vedere gli arredi, di vedere le cose esposte, abbiamo realizzato un testo teatrale per ognuno di questi luoghi e accanto ai testi teatrali abbiamo ovviamente inserito tutte le informazioni dei vini presenti nel territorio che in alcuni casi sono gli stessi del tempo, in altri invece sono molto diversi da quelli che sono presenti oggi. Dopo l'anteprima a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, la prima visita del circuito è in programma domenica 25 marzo alla Regia di Venaria Reale. Le successive saranno ai Castelli di Moncalieri, Aglie, Rivoli, Santena e della Mandria, alla Villa della Regina di Torino e alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Le prenotazioni sono possibili sul portale internet residenzereali.it.